Nuove risorse stanziate dalla Giunta regionale Lombarda per interventi nel sociale, come sono state recuperate? Vengono recuperate queste risorse con l'efficienza della spesa pubblica, che in Lombardia è molto alta. Abbiamo messo 7 milioni di euro in un protocollo con le banche a favore delle giovani coppie, le donne sole per l'acquisto della prima casa, abbiamo messo 3 milioni di euro per aiutare i comuni a ristrutturare le palestre e gli impianti sportivi, abbiamo messo 10 milioni di euro a favore dei territori per valorizzare Expo e poi utilizziamo i fondi europei, oltre 3 miliardi di euro destinati alla Lombardia per i progetti europei a favore delle imprese e a favore dei territori e dell'agricoltura. Siamo un esempio di buona spesa pubblica e il fatto che nella riforma del titolo quinto sia stato introdotto il principio dei costi standard è un'ottima notizia per noi perché ci consente di valorizzare la grande efficienza della regione Lombardia nel spendere i soldi pubblici.